Buongiorno a tutti pagliacci e benvenuti ad una nuova recensione di cinema degli eccessi molto flash dedicata al Suspiria di Guadagnino. Ho chiesto sulla mia pagina Instagram se avreste gradito un mio parere su questo film e la risposta è stata molto positiva. Dunque eccoci a parlare di un film che farà sicuramente discutere, a prescindere che vi sia piaciuto o no. Il primo passo per comprendere il Suspiria di Guadagnino è dimenticare il Suspiria di Dario Argento perché siamo di fronte ad un remake che si ispira lontanamente al suo originale ma che prende una via completamente diversa. La mia intenzione iniziale era quella di fare un video che partiva da Argento per arrivare a Guadagnino ma avrebbe avuto poco senso e sarebbe stato forzato. Su questo aspetto di etichetta rifletteremo alla fine perché è un argomento un po' noioso. Ma veniamo noi, la trama è indicativamente la stessa. Siamo a Berlino nel 1977 e Susie, ovvero Dakota Johnson, arriva in una rinomata scuola di danza diretta da Madame Blanc, ovvero la meravigliosa Tilda Swinton. Qui è appena scomparsa misteriosamente una delle studentesse migliori, Patricia, che è la Moretz. Piano piano scopriamo che le donne che gestiscono la scuola hanno dei poteri sovrannaturali, sono streghe e il sovrannaturale appunto arriva potente nel film. Vediamo di capire quali sono i pregi e i difetti dell'opera. Il più grande pregio di questo nuovo Suspiria è indubbiamente la gestione dello spazio in relazione al suono e al corpo dei personaggi. Il movimento durante la danza, ma non solo, crea un forte impatto nello spazio scenico, un impatto talmente forte da coinvolgere consistentemente anche il suono e la sua espansione attraverso l'ambiente. Ogni gesto è importante, ogni passo di danza batterà sul pavimento, smuoverà l'aria, darà vita a delle sensazioni che coinvolgono l'udito, moltiplicando notevolmente l'effetto che ogni personaggio ha all'interno del film. I movimenti che maggiore danno a questo effetto sono ovviamente i passi di danza, ma anche gli incantesimi di Tilda Swinton sulle giovani. Quando muove le mani sentiamo dei suoni tipici da horror. Se la danza espande la potenza del suono originale anche attraverso la stregoneria e l'atmosfera della scuola, ovviamente gli incantesimi invece o le maledizioni che siano lo racchiudono nei sospiri. Questo è un aspetto che gli horror moderni hanno perso molto. I vari film di possessioni o streghe non hanno compreso come si deve fare questo legame e i tre elementi spesso sono distinti e non si fondono bene. Nei vari insidius, sinistre e quelle robe lì, la casa ha una presenza sovranaturale a sé stante e i gesti dei personaggi non influenzano l'ambiente, sono totalmente passivi. Così come il suono è organizzato solo per l'amor di inquietudine e per il jumpscare, per dare corpo sì all'ambiente ma non al gesto. Il sistema dell'horror moderno è assimilabile al concetto psicometrico della dissociazione parziale. Mentre Suspiria ma anche The Neon Demon di Refn, due film con molti punti in comune, hanno un effetto di doppio additivo. Per Deleuze ci sono due sistemi principali di sensazione-azione, il SAS che è quello della sensazione-azione-sensazione, tipico ad esempio dei film di guerra o del dramma psicologico, e la SA, ovvero azione-sensazione-azione, che invece è tipico della commedia alla Charlie Chaplin in cui il gesto comico dà vita ad una sensazione che poi si riversa sull'azione successiva. La slapstick comedy è un esempio, si parte dal gesto, giusto? Ok. Il Suspiria di Guadagnino fa parte di questo secondo sistema, perché assolutamente di psicologico non c'è nulla in ciò che stiamo guardando, non è assolutamente un horror psicologico, è un horror fisico tanto quanto uno slasher. Si parte dall'azione, si dà importanza prima al gesto, quello della danza o dell'incantesimo, esattamente come in una commedia. O come in un musical, ad esempio, quelle commedie musicali classiche degli anni 40-50. Questo per dire che l'agire dei personaggi sulla scena è basilare, intenso, connesso con tutti gli elementi significanti dell'opera. Non sto inventando, ragazzi. Verso il finale anche Tilda Swilton farà un discorso simile sulla potenza del gesto, che è un discorso significativo per comprendere tutto il film. Un altro grande pregio del film di Guadagnino è l'utilizzo del montaggio, che non fa altro che amplificare il concetto. Ok, in alcune scene ci sono anche degli errori, ma vabbè, facciamo finta di non vederli. Quando Susie sta per danzare, ogni volta dopo il primo gesto, o addirittura prima, il regista decide di cambiare scena, per mostrarci le conseguenze che sta per avere quel gesto sull'ambiente, ma anche ovviamente per creare una certa attesa per l'esibizione. Certo, vogliamo vederla ballare perché è brava, si crea l'attesa del movimento artistico della danza, ma contemporaneamente si crea anche la tensione del sovrannaturale, dell'arte orrorifica stessa di cui vive il film. Stiamo ancora quindi parlando di gesto, ambiente, ma arriviamo al suono. A parte il montaggio audio perfetto, ci sono le musiche di Tom York, ragazzi, che sono fenomenali. Fondono ancora meglio questi elementi, creano attesa, tensione, delizia, incanto, piacere impiacentito e divenuto carne, come piume di raro metallo spumato o come vino d'argento versato in nave spaziale. Continuando con i punti forti del film, non si può tralasciare l'uso che Guadagnino fa dell'immagine del movimento di macchina. Quest'ultimo ha molte panoramiche necessarie, ancora una volta, a rendere grande il significato e l'atmosfera del proprio ambiente. Dopo poco dall'inizio del film vediamo un piccolo piano sequenza nella cucina, in cui ci vengono presentate velocemente le varie donne che gestiscono la baracca. Se notate, ogni personaggio è in una posizione che dà significato al personaggio stesso. È tutto diegetico per ciò che avverrà dopo Auduna di loro, però non vi dico cosa assolutamente. Vi dirò, a me Guadagnino non piace, Chiamami col tuo nome per me è mediocre e Bigger Splash è uno di quei rarissimi film che ho abbandonato a metà. Ma un talento incredibile, soprattutto in Chiamami col tuo nome e in Suspiria, gli va riconosciuto. La creazione e la contestualizzazione storica dell'immagine e dei suoi dettagli che rimandano ad un determinato momento storico. Nel suo film precedente è riuscito davvero a cogliere alla perfezione la campagna cremonese contestualizzata nel suo periodo, attraverso i dettagli scenografici, ma anche attraverso la luce, soprattutto attraverso la luce in quel film. Qui riesce a fare esattamente la stessa cosa alla perfezione. La berlino che si rispira è proprio quella degli anni 70, una berlino ancora devastata dalla guerra, una berlino ancora divisa. Qui però arriviamo direttamente ai difetti del film. Il contesto storico come immagine, come influenza sul cameratismo femminile è palese e sottile. Il problema è che forse è fin troppo sottile. Ci sono alcune situazioni appena accennate che poi improvvisamente diventano importanti, che stonano mostrando alcuni difetti nella sceneggiatura. Vi faccio un esempio. Allora, il dottor Joseph, che è l'uomo che aveva in cura Patricia, inizia ad indagare sulla scomparsa della ragazza, ok? Dopo molto scopriamo che sua moglie è scomparsa durante la seconda guerra mondiale e questo elemento improvvisamente diventa importante nel film, influenzando il destino dell'uomo nella narrazione. Così facendo però la cosa diventa abbastanza forzata. Devi spargermi degli indizi per capire che tutto ciò avrà importanza. Altrimenti lo spettatore si trova spaesato nel modo sbagliato e il colpo di scena perde la sua importanza, diventando solo uno in più tra i tanti eventi del film. E non è l'unico esempio che si potrebbe fare. Ci sono un po' di cose così che mi hanno fatto un po' storcere il naso. Come dicevamo, vale anche la pena discutere brevemente sull'etichetta che ha il film di Guadagnino, un Suspiria che non è un Suspiria. Per l'assurdo, The Neon Demon è molto più Suspiria di questo Suspiria. Etichettando il proprio film come remake diventa scorretto andare in una direzione totalmente diversa. È disonesto verso lo spettatore. Dare un nome alle cose ha sempre un evidente effetto sulle cose stesse e la magia del linguaggio. Questo lo chiedo a voi in particolare, a quelli che sono rimasti delusi dal film. Per me ha poca importanza, ve lo dico. E come avrete capito, a me il film è piaciuto veramente tanto. Ma magari qualcuno di voi può dirmi se la delusione è connessa anche a questo o vi sono motivi superiori. Perché io ci ho visto anche un senso metacinematografico in tutto ciò. Soprattutto se pensiamo al finale. Ok, non ve lo spoilerò tranquilli, però se non avete visto il film magari chiudete il video perché la mia riflessione potrebbe portarvi verso un determinato pensiero e ragionamento su come finisce. Col finale l'intenzione di Guadagnino mi è sembrata quella di dire addio al cinema vecchio e stantio, agli autori che ancora si arrampicano sulla fama e al proprio successo ma che non hanno più nulla da dire. E lo fa con un incredibile rispetto però verso questi film che hanno fatto la storia. Questo sicuramente non lo mette in dubbio nessuno. Perché ci ho visto molto questo, un affettuoso abbraccio a ciò che è stato il cinema passato. Un benvenuto a cosa sarà il cinema prossimamente. Sembra volerci dire che tutti quelli delusi da un remake qualsiasi perché è diverso dall'opera originale vadano un po' in culo perché siamo ormai nel 2019 ed è necessario evolvere o comunque diversificare il classico. Si può sbagliare, si può azzeccare ma basta con questo sentimento nostalgico del cazzo. Andiamo avanti, vogliamo fare un remake? Va bene, facciamolo ma stravolgiamolo. Facciamo sentire la nostra voce da nuovi autori. Fatemi sapere se anche voi avete notato questa cosa o se sentendo le mie parole riuscite a ricondurla al finale del film. E in generale fatemi sapere cosa ne pensate su questo Suspiria perché ragazzi veramente è un film su cui discutere, che farà discutere sia che vi sia piaciuto sia che non vi sia piaciuto, non importa. Però è bello discutere su questo film. E finalmente Guadagnino mi ha convinto, un film meraviglioso ragazzi, mi è piaciuto. Scusate stavo ruotando. È un film veramente stupendo. Bene pagliacci, io vi saluto. Dove essere una recensione flash ma alla fine mi sono accorto che su questo Suspiria, come appena detto, c'è tanto da dire e ci sarebbe molto altro. Come sempre seguiteci su tutti i social network, la mia pagina personale Instagram sempre attiva, Facebook sempre attivissimo, Twitter sempre attivo, ovviamente su shivaproduzioni.com su cui escono sempre, sempre, quasi tutti i giorni, praticamente tutti i giorni, recensioni di blogger bravissimi. Dunque seguiteci ovunque e come sempre se volete questa maglietta con i serial killer, basta che inseriate il codice sconto shiva66 nel carrello di pampling.com e avrete una riduzione del 15% su tutto il carrello. Bella regà che il cinema sia con voi.